guarda il maestro subito chiuso ha voglia di fare cinque bei game su peggole avevamo detto avevamo detto uno vinto uno vinto ma boom via mancherebbe ci mancherebbe hanno sempre rifiutato ma non in un page capito che parte con dieci posti di cui 8 sono da donne uno è quello effettivamente vacante 1 e the power non puoi non averlo subito j marza con l'uomo penoso bella winnie metto subito che sta facendo boccia blu roglie marza tv si chiama il canale che ho creato per twitch non posso sbagliar sto super lungo lo sbaglio infatti non devo sbagliare questo porco di un misgozzo buono non ho fatto festa ah non basso nemmeno un rosso mamma mia no calma calma e poi mi voglio fare la tastiera che culo maluzzo speriamo che non faccio il lungo e mi potrebbe girare il cazzo buono 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 tiri ottimi porco dio ha fatto il lungo ovviamente niente penso ho dovuto prendere sti punti in più bello giammo buono il verde che non mi serviva ora a questo punto puoi toccami un paio di rossi in più emot dello sdrogo cioè seriamente è andata a finire così emot delle puttane emot emot delle troie emot emot delle troie oddio si tocca un po' di blu e ma vaffanculo io la sento prego tocca un altro rosso bellissimo ma dammi tocco del fantasma l'ho fatto prima a geo guest abbiamo fatto una sfida fighissima ma è bassa ma regà ma non ha proprio senso che non si senta cioè è diverso ah musica di spotify elevata da impostazioni globali dell'audio su obs ti assicuro che è impossibile io aggiustarli aggiustarli la situazione a Gianmarco è veramente difficile ma perché c'ha un sacco di impicci proprio e lì c'è il viola lo liscia ma vieni dio cane io sì porco dio sembrava veramente un coso un abominio di io l'hai troppo impicciata la situazione già non sì ma dar nulla cioè non ha senso non ha senso no che se ero io ti ho detto io non posso più spegnere il pc devo fare altre f4 per spegnere se no mi fa iniziare a fare cose bobo sai che va all'infinito però se toccasse ma bobo non lo so regà un tiretto cioè normale cognuno in teoria da loro non esistono è best tocca il viola tocca il viola madonna che bucio de culo porco dio madonna puttana che cazzo de tiro schifo che ho fatto e la fa la fa la fa brutta ma la fa troiaio di troie assurta di pelato ma a me non c'è proprio il pelato il pelato non è insulta figurati in stream ma ti ho detto ieri che non hai streamato ho fatto trackmania questo arriva e mi fa mazza trackmania che schifo dammi subito il nome che ho metto vinto no ma gli faccio gli faccio gli faccio ah e che cosa vuoi giocare la risposta mi fa ma qualcosa di diverso non lo so full guys vabbè non è la cerno no ma che mappe boccia roccia boccia roccia qui giacchi se non vinci non è accettabile sappilo ma non può non vincere penso dunque 11 è un verde eh o sozio che un po' sarà lunghissimo è una poppice a mestiere dio porco un verde è dove un amico ah non ho preso il verde mamma mia già marco tocco sexy bollente il tiro che serviva e questi potrebbero essere bei buchi attenzione il rego entra eccolo è bello è bello però voglio fare questo tiro che è incredibile fa il grande rimba 500 punti ma non so due Gianco ci prova ma Gianco molto costante nei risultati e adesso dopo boccia sbroccia perché non dare la puttana al maestro infatti il maestro gioca con Norman e io con la troia ho riuscito a fare lo scivolo la troia qui è il peggior personaggio probabilmente che ti può dare il peggiore eh però l'idea di schivarmi il verde così non è granché dici non te manda eh ovviamente il verde non viene preso ma hai visto? hai visto il mio scivolo? è tutto rotto e poi c'è in mezzo lui certo tu mi butti in merda su quel gioco ah ah bastardo ah ah 100 punti e poi pure figlio di troia perché mi butti in merda su quel gioco ma lo sai che lo giocheresti anche tu ah grande 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 ma non puoi sbattere su due rossi eh brutto pezzetto di merda sei uno scherzetto serio raga sta perdendo ah ah scarso fai schifo devo superare Gianmarco con un tiro logorroico mette subito pressione psicologica ma porca dio anzi guarda non arrivare ultimo qui per me è come una vittoria quindi mi metto quattro punti no con un viola l'avrei superato forse ma lo dai un personaggio bello no no ma a me non piace e vabbè che cazzo è è il torneo di Norman si è il vostro Norman ah dai non paro pure a te ah non mi fa lo scivolo dalla parte casca prima panco a me ma si dai hai fatto bene aspettano ora prima di rompi i blocchetti ma le mortacce tu e tu nonno dai ma te pare che dici ste cose davanti ai ragazzetti dai e questo è l'insegnamento di Dario no che scopo no no dai la così tocchi un po' dei rossi ah 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 è uscito ah è uscito il pallone la pallina ah 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 brava pallina brava ah ah meno male meno male meno male bravissima che tiri di merda che tiri di merda ah ma che cos'è ah ah vabbè ma è vabbè ok dai No ragazzi DJ Marzia mi ha ripreso Dai Vabbè Famo gli complimenti Per il bel tiro Proposto adesso Ma guarda tu Guarda che ce l'ho mica preciso Come 22 Allora baggala Fai quella cosa Che voli Non lo so Rick Niente Il maestro Va avanti Di 900 punti Bastava toccare un bluzio Vera Si va Buono cazzo In nove partite Mi ha dato 5 ignoti Cosa sta succedendo Il cavallo Che devi vince E' vero Ok il tiro non è male regà Belli fratellini Belli fratellini Se riuscisse a salire Non so bene come E non mai che ci va Dall'altra parte dello scivolo Eeeh vabbè Ma pure che c'è Lo scivolo sotto Porco Dio Cioè devono far sempre Quello che piange Quello che ha i problemi In francese La retta C'era risentire Che lanciava i piatti Ma invece Troppa compassione Nessuno Non mi riuscì A durare Se non più energia Secondo me Non è quello Il problema Di naso Perché è diventato Un livello Troppo alto Ma mia Rascida Mia sorella Potrei fare un tiro Clamoroso By the way Rascida Eccolo Il tiro Del Festa Festa Con puttane No Quasi Però La fa La fa La fa La fa cattiva E chiede la mappa La desidera Edoardo Sarà di che sei chiaro Qualcun corrente Bra si No non tocco un cazzo Altro che Cento Quattrocentocinquantamila punti Mi nonno Mi da fa si No Oddio Oddio Belli Bei punti Questi Bello È la mappa La desidera La vuole Barzo Mettimi la mappa De Johnny Lab Sì Sì La sto cercando Gianco La puttana La troiona La troia Pure Questa mappa Sì 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 E ma magari Non mi prende nemmeno Viola Porco Dio Voglio morì Voglio morì Adesso E ole E ole Mi casca Ma 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 c***o Pingball 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 Ma dai Sì Ma che sto a vedere Zero viola Ma che Ma Gianco ha fatto feste estreme Ma che feste estrema Dove prendere tutti quei altri Corbezzolini In cuore Gianco signore Ah ma Gianco ha praticamente Già finito È andata pure di merda Super prugna Mi piace il giro grande In cui Mi piace tutto Ma poi mi credete che Cos'è Io come faccio a fare feste estrema Come ha fatto Come ha fatto a non rimbalzare Cioè qual è il potere che ho Tocco del coglione Buono Periamo ma devi stare più calmo di così Fidati non c'è bisogno Porco Dio Ma che cosa Che partita è Ma cosa sto vedendo E ci avevi dubbio riguardo Starebbe strana al contrario Oh 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 Serial Queste estrema con un tiro Serial Mars Holy shit Extreme fever Madonna Che hai tirato fuori Su chiaciale Come non ci posso un domani Le prendo tutte in bocca Gianco non fare il coglione Gianco Mettilo per buttarla nel 50.000 Gianco No ma adesso voglio che rimbalzi Che prenda pure Ma qua è colpa tua già Volevo che succedesse Qualcos'altro di più incredibile Vedi che voi Ogni tanto chiamate all'ingiustizia Ma voi quelli ingiusti Siete voi Regà però Lo prendi quel viola No ma non c'è neanche modo E motivazione Per la quale io Ti chiedo quel viola Perché già so che tu Non me lo vuoi dare Figurati se tu Mi darai mai quel viola Gioco di merda Ma le pompe Le pompe che farà tua madre Mamma mia Io gliela distruggo Quella gola Shadow Bentornato Signore e signori Andiamo a leggere La grande classifica Del supremo Torneo calabrese Signore e signori Il torneo Vede Manuxo ultimo In solitaria Da solo Lasciato ovviamente A morire Dal freddo Al freddo Sotto i ponti 29 punti A farsi le seghe A vicenda Quindi in realtà Non abbiamo un terzo Ci sono J.Marts e Gianco Ma come è possibile 40 punti E sarei potuto arrivare Secondo Gianco Ha quelli punti 8 e 2 a 41 E poi vince il re Come sempre A 45 punti Quindi anche se fosse arrivato Prima con quella festa estrema Cosa che avrei fatto Non avrei comunque vinto Sarei secondo Undo in stiga Underperforming